Da Nickelodeon arriva il nuovo film di Natale, Albert, la storia di un piccolo albero con un grande sogno. E con l'aiuto dei suoi amici, Albert si imbarcherà per un epico viaggio natalizio. Sarà un... viaggio... difficile. Ma quando hai un sogno nel cuore e gli amici al tuo fianco, non c'è ostacolo che ti possa fermare. Albert, il nuovo film di Natale, sabato 24 dicembre, solo su Nickelodeon.